Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi torniamo sul canale a dedicarci a un video sugli interni della mia mitozza Sono quindi qui a presentarvi questi splendidi stickers della Rico Design Sono veramente fantastici Guardate che belli Sono veramente favolosi Con la trama in carbonio e dettagli gialli Colore giallo uguale a tutti gli altri interni della mia macchina Quindi ero proprio propenso a fare questo cambiamento sul volante Andare quindi a ricoprire i tastini del volante Dei controlli della radio E questa V non so come verrà Ma ho già visto qualche foto e dovrebbe essere veramente spettacolare Quindi ragazzi intro e cominciamo subito Ok ragazzi ci troviamo quindi davanti al mio volante Prima di andare a mettere i nuovi adesivi Ovviamente andremo a pulire tutti i vari tastini plastiche dove andranno applicati gli stickers Vi basta una pezzetta umida giusto per andare a rimuovere quello strato di sporco di grasso molto sottile Io l'ho già pulita prima in quanto ho lavato la macchina poco fa Quindi non andrò a toccare Quindi cominciamo subito a mettere un po' di stickers Adesso Grazie a tutti i nostri spettacoli 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 Ok ragazzi siamo giunti quindi alla fine del video La V non l'ho ancora montata in quanto preferisco prima andare a verniciare la parte argentata in nero Una volta fatto questo andrò ad applicare la V Quindi se la vado a mettere ora poi la premo e la tolgo L'adesivo si rovina e quindi per il momento sta bene al riparo E quindi niente Come potete vedere è veramente un'altra cosa questa parte dove stanno i comandi al volante Con questo piccolo dettaglio qua sotto è veramente fantastico Mi piace un casino Inoltre è giallo che riprende benissimo le cuciture e lo stemma Quindi è veramente fantastico Mi piace un botto Vi lascio il link in descrizione della Rico Design Potete contattarvi su Instagram Quindi niente Ragazzi io per questo video vi saluto Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto Commentate e iscrivetevi al mio canale YouTube E soprattutto seguitemi su Instagram Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti